FELIZIO REGRASSO! FELIZIO REGRASSO! FELIZIO REGRASSO! FINALMENTE SUCCESSO! Finalmente Amazon si accorta che anche noi siamo bravi E quindi parte una nuova figata dell'Arcade Boys Sul canale ufficiale di Twitch di Amazon Music A partire dal 13 settembre ogni 2 martedì del mese Un grande contest musicale Più che un contest è proprio un quiz show a premi, a premi presentato da noi Primo premio 500 euro in buoni Amazon Stai scherzando? Più un anno di Amazon Music gratis Secondo premio 100 euro più un anno di Amazon Music Che comunque 50 euro o 50 euro? Ma che comunque 50 euro? Vabbè ce n'è Quindi sempre un anno di Amazon Music gratis in tiziasi posizione E ogni puntata ci saranno 3 vincitori Dalle 19 alle 20 in live su Amazon Music su Twitch Gang! Grazie Governorù? Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie.